Con un gol per tempo il Serra di Falco batte in trasferte il Raffadali e si conferma vice capolista dell'eccellenza. La squadra di Tutrone vince con merito contro uno sfortunato Raffadali. Dirige il match Frasca di Ragusa. Buona presenza di pubblico sugli spalti, presenti un centinaio di sostenitori ospiti. Alla pronti via è già 1-0 Serra di Falco. Al terzo minuto l'ex Ribera Di Miceli non sbaglia e punisce un errore della difesa di casa. La squadra di Mimmo Bellomo ha un'ottima reazione. Il più ispirato è Di Maggio ma la porta di Tarantino non capitola. Il Serra di Falco è una squadra compatta, ben organizzata e gioca un buon calcio. Di Miceli impegna più volte il portiere Vizzi. Il primo tempo termina 1-0 per gli ospiti. Nella ripresa è sempre il Serra di Falco a comandare la partita. Altre occasioni per Giavanti e Serrafalchesi sempre più vicini al gol. Il punteggio cambia ancora solamente al 65esimo. Parisi supera Vizzi con un tiro cross dalla lunga distanza. Match tutto in salita per il Raffadali. Timida reazione della squadra giallo-verde. Il Serra di Falco non corre mai seri pericoli. La vicecapolista sfiora più volte il terzo gol con Tummarello e Pirrotta. Soltanto nel finale la squadra raffadalese si procura le occasioni migliori per riaprire la partita. La fortuna però volta le spalle a Di Maggio e Compani. Il risultato non cambia. Vince e con merito della Serra di Falco alla Raffadali vanno i complimenti degli avversari e degli addetti ai lavori. Il mercato di dicembre darà un altro volto alla squadra di Bellomo. Indosseranno la maglia del Raffadali, Sciacca, Iannello, Romeo e Virga. Giocatori di discusso valore che avranno la missione di aiutare il Raffadali a salvare la categoria. Il Serra di Falco invece ha tutte le carte in regola per il salto di categoria anche attraverso i play-off. Grazie.